Un annuncio commovente ha scosso i fan e gli ammiratori di Caroline Smith, la celebre giurata di Ballando con le stelle, che ha deciso di condividere pubblicamente le sfide che sta affrontando nella sua lotta contro il cancro. Dopo un lungo periodo di assenza dai social media, Smith ha pubblicato un video toccante direttamente dall'ospedale, dove ha affrontato apertamente la sua situazione di salute con un coraggio e una determinazione straordinari. Nel video, Caroline Smith ha dichiarato con voce ferma che il periodo che sta attraversando non è stato il migliore, ma ha rimarcato con forza di non aver mai considerato l'idea di arrendersi. Come sapete, non mollo mai, ha detto con passione. Questa non è la prima volta che Smith si trova a combattere contro il cancro. Questa malattia insidiosa è tornata nella sua vita per la terza volta, dimostrando che la sua battaglia è costante e intensa. Nonostante la sfida che sta affrontando, Caroline Smith ha condiviso con il suo pubblico che ha deciso di non sottoporsi a interventi chirurgici, ma di optare invece per la chemioterapia. Questa scelta dimostra il suo spirito combattivo e la sua determinazione a fronteggiare la situazione con ogni mezzo possibile. La ballerina ha rivelato che il periodo recente ha pesato sull'animo, ma ha anche espresso come abbia avuto bisogno di riflettere sulle sue fragilità. Tuttavia, rimanendo fedele al suo spirito indomabile, ha dichiarato che talvolta è necessario toccare il fondo per poter rinascere con nuove idee e nuova energia. La notizia ha rivelato che Caroline Smith sta attualmente affrontando una recidiva di un tumore al seno, che le fu diagnosticato per la prima volta nel 2015. Dopo un ciclo di chemioterapia iniziale, la malattia è riemersa in due occasioni separate. Oltre a condividere la sua battaglia personale, Smith ha voluto inviare un messaggio di speranza e incoraggiamento a tutte le donne che stanno attraversando sfide simili. Ha incoraggiato tutte le donne a sorridere allo specchio ogni mattina, anche quando sembra difficile, e a ricordare che ogni giorno è un dono da vivere al massimo. Lascia un mi piace al video, e attiva la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti. In questo modo ci aiuterai a crescere, e darti informazioni sempre approfondite e in tempo reale.